Sono qui? Ci siamo, ci siamo . Allora Dario controlla bene, controlliamo tutto aspettiamo di non dimenticarci nulla va poi c'è la 20V, quindi il collo completato il freno a parco inserito, il selettore di carburante più pieno, sproventi motore alto verde, manetta 1.5, aria carburatore ciechi, cucciola ciechi, manetta 2.000 rpm, magneti, 100 euro, manetta 2.500 rpm, 100 euro, 100 euro, proviamo ancora la ciclista completata, magneti entrambi, pompa carburante on, aria carburatore fredda, riscela ricca, plus 10 gradi, trim per decollo, mettere che il volante c'è qui pieno, breaker 70, porte chiude, nave libero, nave libero, uno, chase the jet, meridiano, free, free, ok, attenzione decollo, aria carburante, india coltelta, promucia all'alleggiamento, india coltelta, aria carburante, e andiamo, e vamo, 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 va, togli il freno, va, l'ha tolto, no, il tempo rimane piantato, non stai toccando te, vero? sto toccando in casa, ok, 29 gradi, allora la pista, è come la figa, più ce n'è, meglio è, quindi, tagliamo un pochino, no? questa che te l'ha detto, questo un po', questo un po', eh? sempre lì si va a finire, oh, eh, in venta, manetta vede 5, questo è il giro, sincronizzato, un montivo terrenco verde, trasponde a richiede, pronti? pronti! let's go! e andiamo! woo! woo! si in venta, stai con la lì è in venta, me vabbè che che è e riporterà un pugnale . 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